Quando si riesce a sentire il battito cardiaco nell'embrione? Allora, le prime pulsazioni cardiache iniziano già ad esserci fra le 6 e 7 settimane di gestazione. Di solito la mamma si rega dalla visita al ginecologo verso la 7-8 settimana e con un'ecografia transvaginale si possono già evidenziare le pulsazioni del battito del bambino. Inoltre, ad esempio, già l'ottava settimana iniziano ad esserci dei movimenti anche degli arti superiori e inferiori. Ovviamente però la mamma ancora non può avvertirli, li avvertirà più tardivamente nel corso della gestazione. Anche ad esempio altri organi di senso iniziano a svilupparsi molto precocemente, come ad esempio il gusto, l'olfatto, l'udito e il tatto.